Ciao a tutti Oh finalmente Ecco almeno in una Vediamo chi sarà L'impostore Eh ma Sempre il crewmate devo essere Ah boh Aspetta cosa do Storage Dov'è già lo storage Vado dal reactor lì Ma poi in che senso Start reactor Mica è a fermo Ah boh Aspetta vediamo No porca vacca Andiamo Questo è manco schiacciato Va Vediamo Fammi finire sta roba Sì è l'ultimo Nooo Oh ho vinto Bello Ah boh Almeno in 8 spero di essere Almeno in 9 Va già bene Va già bene Però più Probabilità di non essere io L'impostore E vedi Ve l'ho detto Che avevo più probabilità Di non essere l'impostore Aspetta Comunque vado Prima qua E vabbè ma Manco il tempo Di cominciare a fare il coso Ma poi che senso ha Cioè Che senso ha Abbiamo appena cominciato E subito E subito va a fare il coso Aspetta Che cavolo No Ma si può Mettere il messaggio privato Sei serio Se ho capito bene Quello Andiamo Vediamo un po' Vediamo tanto Non è che E Dobbiamo aspettare ancora Altre 70 secondi Proprio al massimo Che potevano fare Vabbò Proprio E ci mettono Aspetta Vediamo cosa scrivono Io No Hanno votato quasi tutti Solo uno non ha votato Vediamo E vabbè Uno dice che quello lì L'impostore È tutti Contro di lui Bello Proprio Andiamo Fatto Si posso andare Non dove L'elettrica Ah si Però aspetta Io prima Credo che era lui Se lui è morto E lui non è l'impostore Quindi potrebbe essere O L'amsanna O come caspita Ah L'amsanna O come caspita Si chiama Quella lì Quella rosa O Oh finalmente Oh finalmente Oh finalmente Vediamo Quello Sì Sì Poi Poi devo andare No Poi devo andare Aspetta giù Poi devo andare Aspetta Ah qua Poi Dall'admin Beh Tanto non è che C'è proprio Tutti qua Devo stare Però se stanno Tutti qua Uno Una più Probabilità Di uccidere Uno Vabbò Vabbò No Mi immagino Se qui Sta su Il tizio Il L'impostore Adesso Lo sapevo Che era Rosso Vabbò Maddon C'è anche loro Ci hanno pensato A votare Rosso Aspetto Ascoltate un attimo Comunque grazie per la visione Il video può anche finire qua Spero che vi sia piaciuto Che ci mettiate Che arriviamo Per questo video Arriveremo Arriveremo Aspettate un attimo Spero che per questo video Arriveremo a due A due like Spero che consigliate Questo canale Ai vostri amici E parenti Questa sera C'è un altro episodio Di Di Amongaz A chi interessa Comunque A stasera Grazie per la visione Buona Buona Buon proseguimento Della giornata Grazie A stasera A stasera A stasera A stasera A stasera